Musica Tragico incidente, ieri a St. Arsenio sono morte Francesca e la bimba che portava in grembo. Musica Nessuna fumata nera per la riapertura del Tribunale di Sala Consilina, le rassicurazioni del Sindaco Francesco Cavallone. Arten Sainz across Italy, il Pisacane di Padula al quinto posto. Come la sperula che cresce tra le rocce, Nicoletta Di Noia presenta il suo primo libro. Salernitana, Mercato e il Verona prova l'affondo su Bonazzoli. Eccoci, bentrovati al nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca. Non ce l'hanno fatta Francesca Calandriello, la 27enne originaria di Sassano e la bambina che portava in grembo. Sono morte nel drammatico incidente di ieri a St. Arsenio, sconvolto dalla notizia all'intero Vallo di Diano. Non ce l'hanno fatta Francesca e la bambina che portava in grembo. Sono rimaste coinvolte nel drammatico incidente di ieri a St. Arsenio. Un bilancio tragico. La ragazza di 27 anni originaria di Sassano ha perso la vita. Con lei è morta anche la bambina che doveva nascere. La giovane era incinta. Sposata dallo scorso agosto sarebbe diventata mamma tra qualche giorno. E invece è rimasta vittima di uno spaventoso schianto, la cui dinamica è ancora incerta. Il grave incidente stradale è avvenuto in località difesa, dove si sono scontrati un'auto e un pulmino. Nel violento impatto, la 27enne, che era a bordo dell'auto, ha avuto la peggio. È stato necessario trasportarla in eleambulanza a Ruggi di Salerno. Vani, soccorsi, tentativi di rianimazione, la corsa contro il tempo in elicottero. Purtroppo a Salerno Francesca è arrivata già morta, così come la sua bambina. Erano troppo gravi le ferite riportate. I suoi sogni si sono infranti poco prima delle 19 di ieri, nei pressi del campo sportivo di Sant'Arsenio, quando c'è stato il terribile impatto tra la sua Fiat 500 e il pulmino. Una tragedia, un dolore immenso per un'intera famiglia. Tutto il Vallo di Diano è stato sconvolto dalla terribile notizia. Come testimoniano i tanti, tantissimi messaggi sui social. Due in particolari le comunità a lutto, quella di Sassano, di cui Francesca era originaria, e quella di Sant'Arsenio, dove la giovane viveva con suo marito. Probabilmente sarà fatta l'autopsia per una maggiore chiarezza di quanto accaduto. Le cause dell'incidente sono da accertare. Resta da capire cosa possa essere successo su quel maledetto tratto di strada. Un passo avanti importante per la riapertura del ponte Tanagro tra Padula e Sassano. Lunedì 24 luglio ci sarà la posa della prima pietra per l'inizio ufficiale dei lavori. Il ponte, lo ricordiamo, è chiuso al traffico dall'ottobre 2021 perché a seguito di verifiche si rendeva necessario un intervento di messa in sicurezza. La provincia di Salerno ha aggiudicato qualche settimana fa i lavori di ricostruzione per un importo complessivo di 2 milioni 481 mila euro. Alle ore 10 di lunedì 24 luglio la posa della prima pietra. Saranno presenti il presidente della provincia, Franco Alfieri, il consigliere regionale con delega ai trasporti, Luca Cascone, i sindaci di Sassano e Padula, Domenico Rubino e Michela Cimino. Andiamo avanti. Nessuna fumata nera per la riapertura del tribunale di Sala Consilina. Arrivano le rassicurazioni del sindaco Francesco Cavallone che evidenzia come in relazione alla risposta del ministro Nordio dello scorso 23 giugno all'interrogazione presentata dalla deputata Maria Elena Boschi. Ad oggi non è stata negata la riapertura del presidio di giustizia. Nessuna fumata nera per la riapertura del tribunale di Sala Consilina. Arrivano le rassicurazioni del sindaco Francesco Cavallone a parlare di fumata nera sulla ipotesi di riapertura del presidio di giustizia nel Vallo di Diano e di risposta poco incoraggiante da parte del ministro della giustizia Carlo Nordio in relazione all'interrogazione presentata dalla deputata Maria Elena Boschi sul tema era stato ieri Tommaso Pellegrino e dovere del sottoscritto, afferma Cavallone, evidenziare e informare la collettività locale che ad oggi non è stata negata la riapertura del tribunale di Sala Consilina da parte del ministro della giustizia, il quale ha ribadito che la riforma della geografia giudiziaria del 2013 non ha sortito gli esiti sperati. Alla domanda come il governo intenda procedere per l'annunciata revisione degli accorpamenti al fine di ripristinare una giustizia di prossimità con particolare specifico riguardo alla rapida riapertura del tribunale di Sala Consilina, il ministro ha testualmente risposto. Il tema rimane anche politicamente sensibile, in ogni caso si deve ritenere che la riforma della geografia giudiziaria non abbia dato gli esiti sperati. Stiamo affrontandosi fatta problematica al fine di trovare le soluzioni più idonee. Di recente si sono formati dei gruppi di lavoro per verificare la possibilità di conciliare l'efficienza del sistema giudiziario con la doverosa risposta di giustizia di prossimità che lo Stato deve garantire soprattutto nelle sedi più disagiate. In tale direzione questo governo ha all'esame la possibile riapertura di uffici giudiziari già soppressi anche con eventuale rimodulazione delle relative competenze territoriali. Per quanto concerne il funzionamento degli uffici giudiziari del Tribunale di Lago Negro, il ministro preventivamente percorrendo la cronistoria della soppressione di quello di Sala Consilina ha solo rappresentato, conclude Cavallone, l'attuale status dei procedimenti giudiziari e dell'organico del personale di magistratura, per cui non si può parlare di fumata nera in relazione alla paventata ipotesi di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Parte in Campania il servizio dello psicologo di base. Si parte con 146 psicologi che entreranno in servizio nei distretti sanitari di tutto il territorio. La Campania è la prima regione in Italia ad introdurre la figura. Garantire soprattutto alle fasce più deboli della popolazione, bambini, adolescenti e anziani, il necessario supporto nei momenti di difficoltà. E' questo l'obiettivo del nuovo servizio regionale dello psicologo di base, presentato presso l'auditorium della regione Campania. Si parte con 146 psicologi che entreranno in servizio nei distretti sanitari di tutto il territorio e che garantiranno un primo livello di assistenza psicologica gratuita. La Campania è la prima regione in Italia ad introdurre una figura del genere nel proprio servizio sanitario. Abbiamo deciso l'assunzione con contratti libero professionali di due psicologi per ogni distretto del nostro territorio, ha spiegato il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e dunque per un totale di 150 psicologi per offrire un servizio alle nostre famiglie e ai nostri giovani perché viviamo un tempo molto delicato in cui si verificano fenomeni che toccano il mondo giovanile, che sono a volte sconcertanti e abbiamo tante volte famiglie che non sanno come parlare con i figli. Questo ha proseguito, è quindi un servizio di grandissimo valore che onora la regione, gli psicologi e il servizio sanitario regionale. La Campania dunque, si legge in una nota, prova a fare da apripista in attesa che da Roma giungano novità. A livello nazionale, ha sottolineato De Luca, non c'è ancora un contratto nazionale con l'ordine degli psicologi e il servizio dello psicologo di base non è ancora inserito a pieno titolo strutturalmente nel servizio sanitario nazionale, così come avviene per i medici di famiglia e per i pediatri, per avere contratti nazionali che consentano di fare convenzioni per il pieno impiego. L'ospicio della Presidente della Regione è che ci sia presto una modifica della normativa statale. Altri riconoscimenti e altre soddisfazioni per il liceo scientifico Pisacane di Padula, che con la foto Waiting for, realizzata da Giacomo Palladino della classe quarta A, si è aggiudicato il quinto posto nella classifica generale nazionale al campionato di creatività nell'ambito della quarta edizione di Art & Science Across Italy. Grande soddisfazione per il liceo scientifico Pisacane di Padula, che si è aggiudicato il quinto posto nella classifica generale nazionale al campionato di creatività nell'ambito della quarta edizione di Art & Science Across Italy, il progetto STEAM tra scienze e arte, realizzato con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il SER di Ginevra. Era indirizzato alle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia, hanno partecipato 6.200 ragazzi e ragazze che hanno raccontato un tema scientifico, realizzando complessivamente ben 3.200 fotografie, 1.945 video, 1.510 narrazioni, 1.351 meme. È stata una lunga sfida che si è conclusa a maggio. A febbraio la foto Waiting for, realizzata da Giacomo Palladino della quarta A, si era classificata al primo posto su circa 3.000 scatti giunti da tutta Italia della sezione Fotografare la scienza, il cui obiettivo era realizzare uno scatto fotografico su un tema scientifico o umanistico, declinato e sintetizzato in chiave artistica. Nella classifica generale nazionale, comprensiva di tutte le sfide realizzate nell'anno scolastico, lo scatto in questione si è classificato al quinto posto. La fotografia Waiting for è stata valutata da 20 giurati, tenendo conto di vari elementi, creatività del titolo, descrizione, attinenza scientifica dell'argomento scelto, creatività, originalità e qualità della foto. Lo scatto è stato realizzato con la supervisione della professoressa Nunzia Casale, docente di disegno e storia dell'arte, la collaborazione dei docenti del ramo matematico e scientifico Alessandro Cesta, Antonio Stabile, Mattia Valitutti, Antonio Motta. Protagonisti dello scatto, così Giacomo Palladino descrive la sua fotografia, modellì per un giorno due miei compagni di scuola, Gian Michele Peccheneda e Manuel Coccaro, sono stati immortalati con uno scatto aereo di un drone e infine tanto lavoro di post-produzione fotografica per cogliere appieno il senso di waiting for, una riflessione sul tempo, sull'attesa, letta in chiave scientifica e umanistica. Il metro del mare non parte. L'eurodeputata e vice coordinatore regionale di Forza Italia Isabella Di Nolfi parla di flop della regione di danno per il territorio e per i turisti. La mancata attivazione della metro del mare da e per il Cilento con il rischio ormai sempre più concreto che salti definitivamente per l'estate 2023 rappresenta un flop del governo regionale e un danno notevole per operatori turistici e vacanzieri. È la denuncia dell'euro deputata e vice coordinatore regionale di Forza Italia Isabella Di Nolfi sul mancato affidamento dei servizi di collegamento marittimo del metro del mare. Il servizio è a rischio in quanto anche la seconda gara per l'aggiudicazione è andata a deserta. Dopo la prima gara d'appalto già andata a deserta infatti la regione aveva provveduto ad avviare una nuova procedura per affidare il servizio per il Cilento per l'estate 2023, 2024 e 2025. Anche il secondo tentativo però non è andato a buon fine e Luca Cascone, consigliere regionale e presidente della quarta commissione consigliare urbanistica, lavori pubblici e trasporti, ha spiegato che c'è già stato un incontro con la direzione mobilità per comunicare all'ufficio gare della regione la necessità di far ripartire la procedura per affidare il servizio nel più breve tempo possibile. Il metro del mare, aggiunge l'euro deputata, era stato annunciato in Pompamagna a maggio e doveva essere attivo già dalla metà di giugno. L'estate è ormai inoltrata ed è tutto fermo con la beffa anche per tanti turisti, soprattutto stranieri che arrivano nei porti del Cilento per poi scoprire che non c'è nessun collegamento, né un avviso né un manifesto, solo tanto pressappochismo da parte della regione con un danno d'immagine non di poco conto, afferma, per questi splendidi territori. Infine l'euro deputata di Forza Italia auspica che si trovi una soluzione in tempi rapidissimi per salvare il salvabile, senza rimanere appiedati, afferma, quei tanti turisti che confidavano nel metro del mare per raggiungere il Cilento o per spostarsi da una parte all'altra della nostra splendida regione. Ci fermiamo per un po' di pubblicità. Rieccoci di nuovo in studio, ben ritrovati, una fotografia al femminile della vita che si svolgeva in un angolo dell'entroterra campano negli anni 30 e questo come la sperula cresce tra le rocce. Il romanzo di esordio di Nicoletta Di Noia, un insegnante in pensione con la passione per la letteratura e la scrittura. Vive in Lombardia da oltre 50 anni ma è nata a Sassano dove assicura a salve le sue radici. Ascoltiamo come ci presenta il suo libro. Il tema principale sono proprio le donne e la donna protagonista innanzitutto che è una donna molto forte e così come dice il titolo come la sperula che cresce tra le rocce proprio cercato un fiore che avesse la tenacia e la forza di Assuntina la protagonista però intorno a lei comunque ruotano numerose altre donne anche esse molto resilienti, forti, determinate nonostante l'epoca in cui sono vissute in cui appunto la donna non aveva grande voce in capitolo e quindi aveva sempre un ruolo di secondo piano ma nonostante ciò era lago della bilancia nelle famiglie e rappresentava proprio l'equilibrio e quindi la forza delle donne si evince proprio viene fuori chiara e prepotente nel mio libro. La storia prende spunto da una vicenda realmente accaduta ma soltanto lo spunto che non riguarda me ma riguarda una persona molto vicina alla mia famiglia però nello stesso tempo poi cioè voglio dire è soltanto lo spunto iniziale perché tutta la vicenda poi l'ho creata con la fantasia. Fantasia fino a un certo punto perché dove la mia fantasia è andata a raccogliere tutti i dati tutte nelle memorie della della mia esperienza del mio vissuto quindi tutto ciò che ho poi costruito intorno a una trama che avevo tracciato originariamente viene fuori tutto dal dall'ambiente in cui ho vissuto da ragazza da bambina non posso dire che un personaggio sia realmente esistito perché non è così il personaggio l'ho creato ma in ogni personaggio ci sono comunque caratteristiche che io ritrovo in tanti altri personaggi che ho conosciuto personalmente per esempio magari caratteristiche diverse che confluiscono di diversi personaggi in un altro personaggio creandone uno nuovo completamente nuovo. A chi ha la mia età ma anche un po' più giovane nel leggere il libro si renderà conto che riconoscerà tante cose di Sassano luoghi atmosfere linguaggi modi di vivere tradizioni ci saranno un sacco di dispunti che lo faranno gli faranno rivivere proprio un'epoca. Poter guardare la storia di Assuntina dalla corretta prospettiva è necessario fare un salto indietro nel tempo e andare agli anni 30 del secolo scorso e non solo cercare di immedesimarsi nella mentalità dell'epoca nel modo di vivere delle persone che era completamente diverso e dove ci troviamo? Ci troviamo in un angolo io questo ho detto alle altre presentazioni che ho fatto al nord in un angolo remoto dell'entroterra campano e questo angolo remoto è qui è Sassano il mio Sassano a cui sono legata in un modo viscerale di fatti ci torniamo tutti gli anni da quando sono sposata da più di 50 anni perché le mie radici sono qui. La band cilentana i dolori del giovane Walter presenta il primo disco monimo nove tracce con al centro il tema dell'amore nove tracce che ripercorrono storie ed esperienze personali ma al contempo universali e questa la linea che segue il primo album della band cilentana i dolori del giovane Walter un disco monimo che è un collage fatto di storie d'amore dove ogni brano è una piccola antologia il tema che fa da fil rouge all'intero lavoro e quello appunto dell'amore nell'insieme si ritrova perfettamente espressa ogni sfumatura tipica di una relazione dall'amore tossico a quello romantico dall'amore ricambiato a quello non corrisposto fino all'amore per la natura l'amore incondizionato che è motore del mondo il disco arriva dopo l'uscita di diversi singoli coralli piano truman show occhi rossi stanotte e veleno subito entrati nelle principali playlist editoriali delle maggiori piattaforme musicali a comporre la band cilentana sono Walter Valletta per gli arrangiamenti testi voce Elio Basile al basso Alberto Guzzo alla pianoforte e sintetizzatori Daniele Ripoli alla batteria e Giuseppe Foresta alla chitarra elettrica al disco hanno collaborato anche Alessandro Valletta per la chitarra Massimino Voza pianoforte percussioni arrangiamenti e synth Maurizio Sarnicola producer e arrangiamenti sintetizzatori chitarra elettrica Luanna Cerbone ai cori masterizzato da Giovanni Versari l'album per la grafica ha visto la collaborazione di Joker Gian Pietro Di Fiore i dolori del giovane Walter nascono nel 2017 da un'idea di Walter Valletta cantautore cilentano che inizia il suo progetto solista nel 2015 nel 2017 si concretizza quindi l'idea di creare una band con cui poter realizzare un progetto inedito dal tiro indie pop ma con sonorità tendenti al rock contemporaneo si aggiungono gli elementi necessari alla formazione della band con cui dare forma alle liriche e alla stesura dei brani il primo singolo piano esce nel settembre 2021 E ora lo sport la Salernitana il Verona prova l'affondo su Federico Bonazzoli il club scaligero ha mostrato gradimento per l'attaccante che è fuori dai piani della Salernitana il nodo è la contropartita la Salernitana aspetta gli sviluppi ma per il centrocampo ha in caldo tre operazioni under piacciono Miretti, Somm e non dispiace Ranocchia Il Verona prova l'affondo su Federico Bonazzoli il club scaligero ha mostrato gradimento concreto per l'attaccante che è fuori dai piani della Salernitana il nodo è la contropartita alla Salernitana piace Tameze il lavoratore del centrocampo che ha una clausola da 3 milioni e mezzo quotazione che più o meno rispecchia l'ammortamento del cartellino di Bonazzoli per le prossime tre stagioni potrebbe interessare anche il centrocampista offensivo Duda, Slovacco del 94 da fonti vicini al club scaligero sembrerebbe però che nell'uno e nell'altro siano stati messi sul piatto la Salernitana aspetta gli sviluppi ma per il centrocampo ha in caldo tre operazioni under piacciono Miretti e Somm e non dispiace Ranocchia quest'ultimo, reddice da un'esperienza al Monza, era già nel radar grata lo scorso anno quando la Salernitana era a caccia di mezzi ali per il centrocampo a tre quest'anno si partirà da un assetto diverso e mediana ma Sousa ha fatto capire che qualche variazione sul tema ci sarà da allora anche Ranocchia che ha comunque ottime qualità fisiche e tecniche potrebbe tornare utilissimo il centrocampista Umbro è considerato anche una sorta di grimaldello per sbloccare l'arrivo di Miretti che la Juve non farebbe in ogni caso partire subito Somm ha un'utilità tattica che gli consente di occupare più zone del campo e rappresenterebbe anche un investimento per il futuro visto che per lui si tratterebbe di acquisto a titolo definitivo si gioca su più tavoli ma nel mercato è normale che sia così oltre a Bonazzoli in attacco sull'uscita Christoffersen che tornerà alla Virtus Verona e Simi in cerca di sistemazione anche Orlando Mantovani piace al Cosenza, Mamaducchi, Libali e Valencia hanno mercato mentre Bron aveva avuto un contatto con l'Anderlec nelle scorse settimane Sepe aspetta una proposta di suo gradimento forte tre anni di contratto che ha con la Salernitana e non è scuso che la chiamata possa arrivare ancora dalla Verona che potrebbe far partire Montipò in direzione Fiorentina in entrata Piro e Dobbic sono le prime scelte per il loro centroavanti resta il nodo di A mentre con l'Atalanta si continua a parlare di Cambiaghi per la fascia sinistra Lund e Iel delle opzioni più calde Ed era questo il nostro ultimo servizio grazie per essere stati con noi, arrivederci Grazie per la visione!